L'Italia regna. Ecco quali sono le città in cui si mangia meglio al mondo. Podio tutto italiano. Prima di svelarti quali sono le città in cui si mangia meglio al mondo, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video con chi sai che ama il buon cibo. Grazie per il supporto. Roma è ufficialmente la città con il miglior cibo al mondo, almeno secondo la classifica delle migliori 15 città di taste Atlas, che ha posizionato la capitale italiana in cima alla lista. I sapori autentici di Roma, dalla pizza al taglio alla pasta alla carbonara, dall'acacio e pepe alla matriciana fino alla panna cotta, hanno garantito alla città il primo posto in una classifica di prestigio che annovera le migliori destinazioni culinarie del pianeta. Dopo aver ottenuto il secondo posto nel 2023, Roma ha brillantemente scalato le posizioni, superando immediatamente Bologna e Napoli, che si sono classificate al secondo e al terzo posto rispettivamente. Anche Torino si è distinta, raggiungendo l'ottavo posto nella top 15. I piatti tipici romani, come i saltimbocca, i supplì, la pizza e una vasta gamma di prelibatezze, hanno conquistato i cuori e i palati degli appassionati di cucina, sia locali che internazionali. L'atmosfera unica della città, con i suoi monumenti storici e i pittoreschi vicoli, ha contribuito a creare un'esperienza culinaria senza pari. E tu cosa ne pensi di questa classifica? È corretta secondo te o no? Bologna e Napoli seguono Roma da vicino nella classifica, con le loro deliziose specialità regionali, tra acqui, tagliatelle al ragù, alla bolognese, tortellini in brodo, pizza margherita e sfogliatella. L'Italia può vantarsi non solo del primato globale, ma anche di un successo regionale, con la Campania al primo posto, l'Emilia Romagna al secondo e la Sicilia al quinto nella classifica delle cucine regionali. Nessun premio specifico è stato assegnato ai piatti romani, forse perché a Roma ogni piatto è un capolavoro culinario a sé stante. La cucina della città eterna continua a brillare nel panorama gastronomico mondiale, offrendo un tripudio di sapori autentici e delizie culinarie.